Buongiorno da Edo, è arrivata all'attenzione un po' di tutti in questi giorni la notizia dell'apparizione di un nuovo sito web che vuole vendere un software un qualcosa che non si è ancora capito cosa perché non è stato ancora annunciato però quello che è presente su questo sito che si chiama ONCE, raggiungibile a ONCE.com è una lunga marchettata, un lungo articolo di opinione contro il modello dei software as a service, quindi delle subscription che costringerebbero noi utenti a pagare ai proprietari terrieri, così vengono definiti che detengono il software, una fee mensile per poterne usufruire e nel momento in cui spegniamo questa subscription, quando smettiamo di pagare non abbiamo più il software, quindi non siamo proprietari del software che usiamo che acquistiamo, ma ne siamo soltanto fruitori usufruitori, paghiamo un affitto per questo software mentre una volta, e da lì il nome di questa non lo so, di questo servizio, di questa compagnia che finisce sotto il cappello di 3D7 Signals che i più attenti ascoltatori di questo podcast ricorderanno bene per essere la compagnia di Basecamp, di Hay e di DHH David Heinemeyer Hanson che è un noto troll non è vero benevolo questa affermazione cioè uno a cui piace lo scontro, piace tirar fuori opinioni forti e poi vedere cosa provocano queste sue opinioni ultimamente ha parlato di TypeScript ma magari ne parleremo un'altra volta ebbene, questo nuovo servizio si chiama ONCE appunto, perché una volta il software veniva acquistato in modo diverso quindi sul sito potete trovare questo testo che va a spiegarvi come oggi la maggior parte del software è un servizio mentre una volta lo acquistavate ed era vostro ne ho discusso ieri con un po' di amici e di colleghi e sono venute fuori, secondo me, considerazioni interessanti vi dico la mia secondo me questa premessa, diciamo la premessa che porta poi alla vendita del prodotto o dei prodotti di ONCE è sbagliata quantomeno è abbastanza menzoniera perché dipinge un mondo in cui noi compravamo un software un prodotto e poi ne potevamo usufruire per tutta la nostra vita felici e contenti senza però menzionare che il software non è come un posa cenere ma è un prodotto vivo che deve essere costantemente aggiornato sia per quanto riguarda le patch di sicurezza che possiamo anche definire una proprietà intrinseca e fondamentale del software che quindi vadano garantite come una garanzia per un certo periodo e ci possiamo stare però ci sono anche una serie di aggiornamenti dovute a cambiamenti nell'ecosistema del software o anche banalmente agli aggiornamenti dei sistemi operativi se voi vi ricordate quando possedevate i software passare magari con un software da una versione di un sistema operativo all'altro poteva a volte essere problematico e passare addirittura da un sistema operativo completamente diverso a un altro quindi da Windows e Mac non era possibile quindi è vero possedevamo un software ma soltanto in un dato lasso di tempo in un dato periodo in cui noi eravamo in una certa condizione cambiate quelle condizioni quel software non era più funzionante non era più valido dovevamo riacquistarlo inoltre noi non abbiamo mai comprato un software nella sua intierezza ma soltanto una versione del software uno snapshot specifico di un software cioè quando compravamo Photoshop compravamo Photoshop 6 Photoshop 7 e quando usciva Photoshop 8 dovevamo ricomprarlo con magari tutta una serie di scontistiche del caso però era comunque un nuovo acquisto noi non avevamo un software che ci sarebbe stato valido per tutta la vita anche se uno può obiettare che se tu sei contento con una certa versione del software rimani con quella per sempre però il punto è che è sbagliato è sbagliato valutare il software come un prodotto fermo e solido e che ti accontenti di quello lo esponi su uno scaffale e ti rimane quello per tutta la vita anche altri paragoni che ho sentito con per esempio le automobili secondo me lasciano un po' il tempo che trovano perché anche le automobili sono un prodotto abbastanza vivo che ha bisogno di continue manutenzioni che si deve adeguare anche a normative eccetera e tra l'altro anche dei problemi di sicurezza che se non aggiornati comportano poi un pericolo non solo per il possessore del mezzo ma per tutta la comunità quindi anche lì una sorta di incentivo al cambiamento e a una certa subscription per avere aggiornamenti non sarebbe male cioè un'educazione ad avere sempre un costante rinnovamento di mezzi che sono anche potenzialmente pericolosi come sono appunto i software sapete abbiamo parlato giusto ieri di tutto il discorso che si sta facendo adesso intorno alla security quindi all'importanza di essere consapevoli che il software è un prodotto che può portare a problemi di sicurezza quindi quanto sia importante e mantenerlo ecco e fare questo discorso sul ah che bello era una volta quando compravate un software e non lo dovevate mai toccare per tutta la vita ecco credo che sia soltanto uno spostare i costi da una subscription ricorrente a una manutenzione che deve essere fatta in casa peraltro un punto un passaggio di questo post dice esattamente che i departamenti IT non vedono l'ora di poter far girare il software sul loro stack IT ancora una volta come si faceva una volta perché sono stanchi di essere soggiogati di servire i cloud delle big tech regnanti e questo secondo me questa è un'affermazione che avrebbe bisogno di dati a sostegno perché non non si capisce quali sono i dati che sostengono questa affermazione cioè quanti sono effettivamente questi IT department che non vedono l'ora di potersi gestire il software in casa invece di andare sul cloud manage dei big tech e invece installarselo e applicare manualmente gli aggiornamenti e ovviamente tutta la manutenzione quindi secondo me è un po' furbescamente fuorviante questo articolo però vorrei sapere anche cosa ne pensate voi io la mia ve l'ho detta e adesso partirei con le news di oggi allora per prima cosa ho intercettato grazie a Hacker News questa local news in realtà non andiamo mai a vedere ovviamente i siti di news locali però questa è una news che mi ha colpito particolarmente perché si tratta della morte di una persona una scomparsa che ha fatto un certo rumore ha fatto parlare la comunità di Hacker News un po' anche di nomi importanti nella storia del web ed è la morte di Molly Holslag spero che si pronunci così perché è un cognome che penso che derivi un po' dal tedesco insomma quelle parti quindi non so molto bene pronunciarlo spero davvero che si pronunci così ed è morta a 60 anni questa persona che veniva anche è stata soprannominata la fata madrina del web e io non conoscevo questo questo personaggio quello che quello che ha fatto quello che le sue contribuzioni alla storia del web e mi ha colpito appunto la sua storia la storia delle sue attività a favore di di un web più aperto più accessibile soprattutto lei era una speaker quindi un advocate degli open standard dell'open web aveva anche creato un un gruppo sui web standard e in più faceva molte pressioni su microsoft su apple su google perché i browser ecco accettassero adottassero gli standard aperti quindi è anche grazie a lei e alla sua opera di convincimento se oggi abbiamo se negli anni insomma i browser hanno adottato sempre di più i web standard infatti sono famose vengono citate le sue chiacchierate vis a vis con Bill Gates dove lei spiegava raccontava tutti i difetti i problemi di internet explorer insomma può aver dato un suo grosso contributo anche alla creazione della forma dei browser del web che abbiamo oggi vi leggo dall'articolo del Tucson Weekly perché lei era di Tucson e quindi è qua che si appunto si celebra la sua vita lei aveva fondato negli anni 90 Open Web Camp che era un evento che si teneva nella Silicon Valley dal 2009 al 2013 era leader dei Web Standards Project e poi appunto questa opera di convincimento sui browser anche su Microsoft su opera su Netscape per i web standard e in più lei era un Invited Expert nei CSS Working Group del V3C e anche lavorava con i gruppi su HTML e Geo quindi insomma era una personalità abbastanza influente inoltre si è molto spesa si è molto battuta perché il web diventasse più accessibile quindi a tutti quelli che hanno delle disabilità specialmente sulle disabilità visive quindi ha lavorato molto per rendere il web più accessibile agli screen reader ecco con il V3C e con le sue fondazioni con i suoi gruppi quindi ci sono ricordi di lei anche da parte di alcune personalità eminenti della storia del web quindi io questa persona l'ho conosciuta purtroppo soltanto con questo articolo e quindi apprendo purtroppo della sua morte però credo che sia doveroso celebrare anche quello che lei ha fatto in vita e quindi rendere tutti quelli che stanno ascoltando questo podcast partecipi un pochino del fatto che c'è stata questa persona Molly Holslag o detta anche Molly.com che ha contribuito grandemente al web per come lo conosciamo oggi oh e passiamo a Chrome perché nella nuova versione di Chrome ci sono un po' di novità a partire dall'aspetto estetico l'aspetto grafico perché come dice questo articolo di The Verge Chrome sta per diventare un po' differente questo non è ancora un cambiamento nella nuova versione di Chrome ma arriverà a breve un nuovo una nuova interfaccia un look rinfrescato ecco un look basato su Material You nelle prossime settimane arriverà a tutti gli utenti questo questo nuovo refresh che riguarda delle icone con un focus sulla leggibilità così si legge nell'articolo e insomma dei colori che si complementano meglio sapete che Material You è una serie di regole di convenzione di best practice e di guidelines per i bottoni i colori quello che sappiamo essere una collezione una UI library una collezione di elementi di Material la cui versione You è appunto l'ultima versione che è stata anche implementata in Android i cambiamenti più visibili ecco sono che apparentemente le cose sembrano un pochino più arrotondate quindi tutti gli angoli sembrano un pochino più arrotondati sia anche quelli dei tab ma anche quelli delle finestre sull'articolo ci sono un po' di screenshot e di GIF della nuova versione si vede tutto un pochino più arrotondato che è strano pensando che invece Material la prima versione portò il web e le interfacce a essere un pochino più squadrate quando erano più arrotondate prima Material portò un pochino più di angoli questo invece sembra smussarlo un po' ritornare un pochino indietro quindi anche la nuova interfaccia di Chrome Web Store è ridisegnata con un po' di Material You quindi si vede una un'immagine di comparazione e in chiusura di questo articolo si cita la nuova feature Safe Browsing si dice che quando si naviga su un sito che è potenzialmente dannoso ora succede una cosa Google controlla l'URL di questo sito con un database locale di siti che viene scaricato regolarmente ogni 30 o 60 minuti e se l'URL fa match con quelle scaricate localmente di questa lista di siti dannosi Google te lo notifica la famosa pagina rossa che dice questo sito è potenzialmente dannoso invece in questo nuovo cambiamento Google farà un check in tempo reale con il database dei domini maliziosi che Google detiene quindi manderà l'URL a Google stessa per fare il check se il sito è dannoso o no si ferma un po' qua questo articolo ma in realtà questa feature è abbastanza interessante deve essere un pochino più dettagliata fortunatamente su Bleeping Computer c'è qualcosa di più c'è qualcosa di più sulla su questa phishing protection viene definita e si vede anche la pagina rossa così come come appare oggi no con il warning sul sito che potenzialmente è dannoso bene si va a spiegare che questa feature in particolare è potenzialmente dannosa per la privacy perché ora con abilitando questa nuova safe browsing che va a sostituire completamente la vecchia Google manderà l'URL che stai navigando qualunque URL inclusi anche i download i fetch qualunque URL viene mandata a Google ai server di Google per fare il check in tempo reale e inoltre si dice che questo manderà un piccolo sample della pagina a Google per scoprire se ci sono minacce magari in siti che non sono ancora stati ceccati da Google inoltre queste URL e questi dati sono linkati all'account dell'utente per vedere appunto se questo se un potenziale attacco è legato all'account dell'utente quindi questa feature si chiama enhanced safe browsing che va a sostituire la precedente e va poi l'articolo a spiegare che appunto sostituisce questa versione di queste liste che vengono aggiornate ogni 30-60 minuti per si dice da parte di Google per migliorare la protezione perché se nell'intervallo di tempo in cui i siti non vengono scaricati ne nasce uno nuovo potenzialmente dannoso Google non è in grado Chrome non è in grado di segnalarlo però attenzione perché questo il computer lo segnala è un potenziale pericolo per la privacy perché questa history di navigazione viene mandata a Google per esempio Google potrebbe legarla ai targeted ads cioè alla personalizzazione degli ad in base alla history di navigazione c'è una risposta che Google ha mandato a Bleeping Computer dove dice che nessuno di questi dati sarà usato per i targeted ads questa è naturalmente doverosa riportarlo è la dichiarazione di Google ma proprio l'add tracking è parte diretta dei nuovi aggiornamenti di Google e bisogna un po' parlarne perché ce lo aspettavamo ne abbiamo parlato già l'anno scorso insomma delle nuove feature di tracking di ad tracking implementate da Google per togliere e eliminare definitivamente in futuro i third party cookies che già comunque sono stati eliminati dagli altri browser perché né Safari né Firefox per citare i due maggiori competitor permettono più i cookie di terze parti mentre invece Chrome sì perché naturalmente questi cookie sono parte fondante del sistema di advertising implementato da Google stessa quindi togliendo questi si toglie una parte importante delle revenue a Google ebbene questa nuova privacy sandbox così viene definito in Google è potenzialmente un grosso pericolo per la privacy l'abbiamo già detto l'hanno detto vari advocate su web tra cui Electronic Frontier Foundation nonché anche Mozilla e gli altri browser bene questa privacy sandbox è in particolare quello che viene chiamato Topics API che sostituisce il precedente Flock è un potenziale pericolo per il fingerprinting dell'utente se non vi ricordate come funziona Topics API in pratica quando voi navigate nei siti Google raccoglie un po' i topic a cui voi siete interessati tipo se visitate il Financial Times Google segnerà che voi siete interessati alla finanza butto lì e mette questi topic in una lista a quel punto i siti che vogliono presentarvi degli ad andranno a interrogare questa lista attraverso appunto le Topics API e vi mostreranno degli ad legati ai vostri topic di interesse una delle appunto delle critiche maggiori a questo meccanismo è che facendo così potrebbe essere possibile soltanto leggendo la lista di interessi identificare un utente perché se gli interessi sono abbastanza sono molti potrebbe essere facile risalire a un singolo utente che è caratterizzato da un specifico set di interessi e quindi poi tracciare il comportamento di quell'utente e le visite di quell'utente in giro per il web ecco sulla nuova versione di Google è arrivato questo pop up che vi dice che la Privacy Sandbox ora è in funzione o potrebbe essere in funzione questo pop up è differente a seconda delle legislazioni del paese per esempio negli Stati Uniti questa è una notifica del fatto che la Privacy Sandbox è attiva e si può soltanto fare ok ho capito oppure andare nei settings e andare a manualmente disabilitare quindi è opt out la cosa mentre in Europa che richiede fortunatamente che i messaggi siano più chiari e che invece il meccanismo sia di opt-in cioè che gli utenti accettino un cambiamento nelle condizioni ecco il banner è un pochino differente e si può alla fine scegliere se accettare queste feature oppure no e vi ricordo anche appunto che Electronic Frontier Foundation ha opposto grandemente queste nuove API e in particolare mi piace puntare l'attenzione su un concetto chiave cioè il tutto il lavoro che sta facendo Google per passare da una modalità di tracking a un'altra modalità di tracking fondamentalmente tutti gli sforzi che sta portando non sono secondo l'AFF ma anche secondo altri il punto su cui si dovrebbe concentrare cioè noi dovremmo immaginarci un mondo dove non ci sono i targeted ads io mi spingerei ancora oltre e mi piacerebbe immaginarmi un internet dove non ci siano gli ads capisco che sia complesso però a questo punto e visto anche la miriade di schifezze che stanno facendo gli advertiser o i social come anche quelli di Google poi magari parleremo di quello che ha fatto o che sta facendo YouTube riguardo appunto le pubblicità e l'advertising ecco probabilmente credo che sia anzi io sono convinto che sia diritto di ogni utente di bloccare di cercare di bloccare quanti più ad possibili perché il web dovrebbe essere un territorio liberamente esplorabile fonte di condivisione di informazioni e non di tracciamenti e di continui bombardamenti di pubblicità questo io lo penso così però non è quello che pensano probabilmente la maggior parte degli utenti perché come mestamente chiude l'articolo probabilmente neanche questa mossa di Google porterà molti utenti a passare a Firefox in chiusura visto che abbiamo parlato dell'entrata in vigore del DMA del Digital Market Act dell'Unione Europea vi segnalo che Apple e Microsoft hanno opposto la decisione insomma della Commissione Europea di includere Bing e iMessage tra i servizi che dovrebbero entrare sotto queste nuove regole quindi conformarsi a delle nuove regole ecco Microsoft e Apple hanno presentato dei ricorsi dicendo che da una parte Bing e da un'altra parte iMessage non rispetterebbero i requisiti minimi per essere considerati appunto gatekeeper o core platform services in particolare perché Bing ha un market share molto basso si parla del 3% e iMessage non ha a sua volta un numero di utenti mensili necessari ecco per ricadere sotto questo set di regole quindi vi segnalo appunto l'opposizione di queste due aziende adesso ci sarà un periodo in cui ci saranno cinque mesi in cui l'Unione Europea dovrà mettere in atto delle indagini per capire se hanno ragione loro o se abbiamo ragione noi però comunque come riporta anche Ars Tecnica insomma sia Apple che Microsoft hanno opposto queste decisioni in particolare su Ars Tecnica si parla delle cifre di questi limiti in particolare di 45 milioni di utenti attivi mensili che quindi queste piattaforme secondo i loro possessori non avrebbero Bing un 3% e iMessage appunto non vengono diffusi numeri sugli utenti ma appunto non rientrerebbe in queste cifre non ci sono per il momento commenti da parte né di Apple né di Microsoft né della Commissione Europea quindi staremo a vedere e insomma questo era tutto anche per oggi grazie per avermi seguito direi che passate un buon weekend state serenissimi state al fresco perché è tornato il caldo questo non mi piace però vabbè peccato e noi ci risentiamo la prossima settimana ciao